Passo la parola a Maria Rachele Ruiu, presidente della manifestazione per la vita, membro del direttivo Pro Vita e Famiglia e del direttivo del Family Day. Grazie, che bello essere qui, tra l'altro sorridevo perché noi abbiamo un gruppo carbonaro tra articolo 26 e noi insieme ad articolo 26 lavoriamo tanto con Generazione Famiglia che è il braccio operativo nel mondo della scuola di Pro Vita e Famiglia e abbiamo dei gruppi carbonari con cui ci scambiamo i regolamenti alias e aiutiamo e sosteniamo i docenti o gli insegnanti che via via ci seguono, ci chiamano per aiutarli in questa che è proprio una fatica. Allora il mio intervento vorrebbe un pochino dare ragione di questa fatica perché può essere che il regolamento non è legale, può essere che faccia parte di un riferimento antropologico che non ci convince ma se facesse il bene dei ragazzi, se veramente questi ragazzi grazie al regolamento alias diventano improvvisamente felici e gli si risolvono tutti i problemi della loro vita che siamo noi per impedire che questo regolamento, che è un pochino quello che noi sentiamo spesso e che ci viene detto quando baccagliamo tramite le voci dei nostri genitori o dei docenti all'interno dei consigli di istituti dei collegi. Intanto una cosa rispetto al fatto che è vero che ultimamente stanno cominciando ad introdurre, a chiedere una certificazione medica, ma è una certificazione medica che attesta semplicemente che il ragazzo è in questa ricerca, ogni volta che noi abbiamo provato tramite regolamenti, alle volte è successo che ci accorgevamo che non riuscivamo a bloccare il regolamento e rimandarlo al mittente, abbiamo provato a emendarlo chiedendo delle certificazioni reali, realistiche, che ci fosse un tot di anni di psicoterapia, che si fosse veramente nell'anno di prova di vita reale, ce l'hanno rimandato al mittente perché a loro non interessa certificare che ci sia veramente un disagio, ma interessa allevarsi dalle scatole qualche contraddizio, qualche genitore o qualche docente che alza la mano. Senza dubbio, anche per tutto quello che ci siamo raccontati in questa giornata, anche rispetto allo sguardo che abbiamo avuto questa mattina, questo è un tempo, anche grazie ai social, anche grazie ai media, anche grazie a Netflix, grazie a tutto quello di cui abbiamo parlato, che sta creando dei disagi ai nostri figli e quindi è vero che ci sono dei bambini e che ci sono dei ragazzi che a un certo punto vivono questo profondo dolore e questa profonda sofferenza ed è giusto che questi bambini e questi ragazzi esprimano questa sofferenza e chiedono aiuto. Il tema è che spesso questi ragazzi incontrano, prima di chiedere aiuto ai genitori o ai professionisti, come diceva questa mattina Miriam, la dottoressa Incurvati, incontrano i social e nei social, ora io vi assicuro, io purtroppo lavorandoci con questi in questo ambito, ho Instagram che mi promuove e mi propone tutte le transizioni, cioè ci sono tantissimi medici che fanno i video con ragazzi a cui hanno appena per esempio fatto ragazze a cui hanno per esempio fatto la mastectomia e la presentano come la risoluzione di tutti, la panacea di tutti i mali e questo se io sono una ragazza, se sono un bambino, perché purtroppo i cellulari li danno anche ai bambini, se sono un bambino o sono una ragazza che ha un grande disagio, che sono in difficoltà e che può essere per un trauma, può essere per un attratto di personalità, sono in crisi con me stessa e non mi riconosco e capisco che c'è una grande sofferenza per entrare in relazione con l'altro, non riesco ad entrare in relazione con i padri, non riesco a sopportare mia madre, non riesco a sopportare i miei fratelli, non riesco a fare, arriva l'esperto, l'influencer, il film e il bombardamento a scuola, perché ricordiamoci che l'articolo 26, Generazione Famiglia nasceva per questi bombardamenti ideologici della famigerata ideologia gender, che dicevano che non esisteva ed eccoli qua i frutti, la carriera alias di ideologia gender pura e gli dice guarda che il tuo problema è che sei nato in un corpo sbagliato, è un bambino, una ragazza che è in disagio, che è in difficoltà, che sta soffrendo a tutto il diritto di credere che se c'è una soluzione per superare questo grande dolore e questa soluzione sembra a portata di mano di andare a fare questa soluzione. Il tema della carriera alias come il tema di questo grande problema educativo che noi stiamo vivendo oggi è il tema degli adulti che dovrebbero fare da corteccia prefrontale, quella che diceva oggi Miriam, i bambini, la dottoressa ancora fa oggi, i bambini, è un'amica quindi perdonatemi, i bambini e gli adolescenti non hanno, la maturità della corteccia prefrontale è verso i 21-25 anni per cui io spesso mi arrabbio e mi spingo sempre oltre, soprattutto in televisione quando dicono che bisognerebbe iniziare a fare i percorsi di transizione a 18 anni, gli faccio allora un problema legale, te ne vuoi lavare le mani, perché se vuoi aspettare il momento in cui il ragazzo ha la capacità di pianificare, di prendere decisioni, di aspettare che la corteccia prefrontale sia completamente sviluppata tra i 21-22 fino ai 25 anni, non è certificato, 25 anni o è sviluppato a campi come una adolescente come tanta gente che vediamo che non è riuscita a svilupparla, però per arrivare a questa maturità cognitiva che ti permette di pianificare, di attivare strategie, ti permette una regolamentazione del comportamento emotivo che ti può guidare i pensieri, questo avviene ai 25 anni e se noi ci aspettiamo che a 12 anni, a 13, quando noi veramente i ragazzini fino a 12 anni non possono prendere l'ascensore ma possono decidere di essere nati nel corpo sbagliato, possono decidere di intraprendere il cambiamento di sesso, voi capite quanto stona questo, io dico sempre se tu prendi un 12 anni e oggi è alto come me, non ci vuole tantissimo, capisco, ma molto probabilmente ha anche delle competenze fisiche per cui sarebbe molto più bravo di me a guidare la macchina, perché ci arriva meglio al cambio e avrebbe, ma tu la macchina non gliela darai in mano, mai a un 12 anni, perché? Perché va a spattere. Infatti a livello di percentuale gli incidenti che si fanno con queste macchinine di 16 anni che si fanno, se voi vedete la percentuale, sono altissimi, in America come hanno abbassato l'età della patente, sono aumentati gli incidenti, ma perché? Perché c'è questa non maturazione ancora della corteccia prefrontale che ti aiuta e ti sostiene a prendere decisioni sane per la vita tua e la vita degli altri intorno a te. Di che cosa stiamo parlando? Cioè la carriera alias, che male ti fa? È una cosa così, un punto ideologico che a Geto e Gender Letts hanno deciso di portare a scuola per poter mettere una bandierina? O fa parte di una cosa… ma questo fischio, tanto solo io lo sentite pure voi. Lo allontano allora, mi urla. Lo avvicino allora. Ok. Fa parte di questo approccio affermativo o che è l'approccio olandese, tra l'altro apro e chiudo una parentesi perché vi do questa notizia che non so se si può dire pubblicamente, quindi saluto quelli che ci sono da casa. L'approccio olandese perché nasce? Perché a un certo punto c'è stata una grande domanda che si sono posti. Perché dopo la transizione gli adulti che fanno la transizione per migliorare il benessere, la salute mentale, la salute mentale non migliora? Sarà che forse li prendiamo troppo tardi? Proviamo a prenderli prima, proviamo a intercettare prima quelli che sono gli adulti che poi andranno… Gli adulti che noi abbiamo operato troppo tardi sarà che l'abbiamo fatto l'operazione troppo tardi, quindi facciamogliela prima e vediamo se questo funziona. Tra l'altro era una sperimentazione all'inizio anche con dei riferimenti, cioè con degli obblighi di ricerca. Vi spoilerò la fine, no? Se li prendi prima non migliora il benessere, la salute mentale. Queste persone, anche se li prendi quando sono bambini e gli vai fare la transizione, non sono poi più felici. Questa ricerca della felicità, che è una ricerca che tutti quanti noi abbiamo, perché la ricerca di essere riconosciuti, di amare, di poter amare ed essere amati è una ricerca che è insida nell'uomo e che ti spinge a fare una cosa folle come quella di mutilare un corpo sano, la ricerca della felicità e non ci arrivi alla felicità. Questa è la grande fregatura di questo approccio affermativo. non è un derby, non stiamo parlando di un derby, non è che siccome io sono più saggia o il Signore mi ha dato la possibilità di avere la capacità di guardare meglio, devo asfaltare gli altri. È il benessere dei nostri figli. Qua con la Carrera Aglias e con tutto quello che ci sta intorno stiamo parlando del benessere di questi giovani, soprattutto di quelli più fragili che sono in difficoltà, che stanno soffrendo e che pensano di essere nati in un corpo sbagliato. E come sostenerli? Perché questa è la verità, come sostenere questi giovani? Ci sono sempre di più giovani convinti di questo e come possiamo farli sostenere? Sicuramente non con le linee guida WPAT, che sarebbe l'associazione che si occupa, che ha stilato queste linee guida di cui si parla, di cui la Carrera Aglias fa parte, perché la Carrera Aglias non è che quella famosa transizione sociale fatta intanto all'interno della scuola per poi dopo essere esperita anche fuori dalla scuola e che è il primo passo di questo approccio affermativo. Sottolineo una cosa, la Carrera Aglias, cioè cambiare il proprio nome, non è un atto solo amministrativo, è un vero atto psicodinamico, cioè se la maggior parte di quelli che sono bambini e ragazzi che vivono questo disagio, questa sofferenza di sentirsi nati nel corpo sbagliato, cioè vivono la disforia di genere, poi quando arrivano alla maturità sessuale, quando arrivano, quando diventano grandi, quando superano l'adolescenza, si rimette questa disforia di genere, quindi si riconoscono, si ritrovano nel corpo di appartenenza, diminuisce molto la percentuale, dati scientifici, diminuisce molto la percentuale quando inizia la transizione e la Carrera Aglias, cioè la transizione sociale, è il primo passo di questa transizione e quando inizi questo primo passo è molto difficile tornare indietro, perché? Perché se questi sono ragazzi che hanno avuto delle difficoltà, tanti ragazzi che sono bullizzati improvvisamente quando dicono di essere del genere opposto, di essere transessuali o di essere non binary o tutto quello che sentiamo, asterischi che io pensavo che vi portassero a qualcosa, eccetera, poi vengono improvvisamente, entrano, vengono celebrati, vengono accolti, vengono super coccolati e questi ragazzi, anzi le mamme di questi ragazzi raccontano che quando poi le mamme riescono a convincere il ragazzo magari a non fare la transizione, quelle stesse associazioni, quegli stessi gruppi che li hanno celebrati, li hanno accolti e li hanno coccolati, li abbandonano, per questo non è facile tornare indietro, voi mettetevi nei panni del ragazzo fragile, che ripeto sta soffrendo così tanto, tanto da poter decidere di farsi mutilare il corpo che non è banale, io l'ho avuta una mastectomia, non è mastectomia, ma per fortuna quadrettomia, non è proprio divertente farsela, è bella faticosa da sopportare proprio come operazione e anche poi come riconoscimento guardandosi allo specchio. E allora queste linee guida del WPAT ci sono state un grande scandalo che se fosse stato uno scandalo non politicamente scorretto l'avremmo letto dappertutto, avrebbero dovuto aprire i telegiornali, perché questi sono i medici che ci stanno raccontando come curarsi dei nostri figli più fragili, che si scambiavano i messaggini dicendo che era una sperimentazione, che forse potevano sperimentare di creare un altro sesso, che non sapevano e non conoscevano quelli che erano gli effetti collaterali di queste transizioni, anzi erano certi che il consenso non poteva essere informato perché i bambini e i ragazzi essendo piccoli non potevano certamente dare un consenso informato rispetto a un passaggio, una procedura medica, così invasiva, ma neanche i genitori, perché quando al genitore gli dici vuoi una figlia morta o un figlio vivo, ma che puoi fare te genitore se sei ignorante, se non dire no certo non voglio che mio figlio si suicidi e anche se sei contrario, perché capisci che ha un senso, se ti mettono di fronte a questo cosa puoi fare te? Puoi solo dire sì vabbè non caffè come vuoi, questo è tantissime, vi invito a leggere le testimonianze che trovate grazie a un'intervista fatta da Porro, ho conosciuto questa associazione meravigliosa che si chiama Generazione D che sono associazioni di mamme italiane, perché noi pensiamo sempre che queste sono cose che stanno all'estero, di mamme e papà italiani con bambini e ragazzi disforici che combattono oltre a soffrire, perché il figlio soffrono, combattono con i professori che gli fanno e gli cambiano col nome e con lo psicoterapeuta, il careggi, il careggi, non so se avete visto tutto il casino che è successo al careggi, l'affermazione dei responsabili del careggi dicono chiaramente che loro prendono carico, in un'intervista chiara parola, che loro si prendono carico dei ragazzi senza dovergli fare nessuna psicoterapia, psicoterapia e nessuna diagnosi, perché in fondo noi non chiediamo una psicoterapia e una diagnosi a un ragazzo cisgender, cisgender vuol dire un ragazzo maschio, che si sente maschio, uomo, perché quello che diceva prima Marco, perché non si parla più, io parlo di disforia di genere e parlo male, perché si parla di varianza di genere, se voi andate sul sito di Genderlands che è uno di questi siti, di queste associazioni che promuovano, loro parlano subito, ci sono i bambini con la varianza di genere al contrario, tutte le cose che fanno loro, perché è naturale la varianza e allora dicono loro, questi WB Pat raccontano che questo consenso è storto, perché se tu dici a un genitore vuoi ammazzare tuo figlio, vuoi che tuo figlio si ammazza o vuoi fare, io dico vabbè facciamo, ora fa quello che gli pare, non lo facciamo ammazzare e poi capiamo dopo che succede, però succede che tu lo stai buttando in un burrone. Questo approccio risolve, cosa è questo approccio? Perché sto dando scontato che tutti sappiamo, approccio affermativo, transizione sociale, se il ragazzo sta nell'età, deve passare all'adolescenza, si fa la transizione ormonale facendo il blocco, dicono blocco, della pubertà con la triptorellina, che è un medicinale che in Italia è stato approvato a Fallabili, ma nel 2018 speriamo che ora, quando ancora se ne conosceva forse poco le conseguenze, è un medicinale che si usa sia per la grassazione chimica, sia per i percorsi oncologici, solo che dà dei problemi intanto di sviluppo cognitivo, perché quelli sono adolescenti, io già sono stupida, quindi ho problemi, di sviluppo cognitivo, problema di osteoporosi, problemi anche a livello di desiderio sessuale, problema a livelli genitali di lubrificazione, perché un conto quando c'ha 40 anni, 50 anni e sta rischiando, o la fai o muori, un conto ragazzi parlate di adolescenti, stiamo parlando, e soprattutto è folle pensare che il nostro corpo sia fatto come un interruttore, scusate sono un po' stanco, un interruttore, non è che si può spingere e riaccendere senza problema, non è che siccome tu blocchi l'adolescenza, poi quando la sblocchi va tutto avanti come se non fosse accaduto. L'altra cosa folle è che la scienza racconta che la maggioranza delle disforie di genere si risolve poi con lo sviluppo sessuale che tu naturalmente stai impedendo con la triptorellina. Dopodiché superi il tempo della triptorellina e c'è stata ti danno gli ormoni del sesso opposto, con tutte le conseguenze del caso, quindi alle donne ti danno questi ormoni, quindi gli cresce la peluria, si ingrossa la voce, diminuisce un pochino il seno e il corpo comincia a chiedere la panza, ti si conforme il corpo agli ormoni maschili. La donna alle ragazze che invece danno gli ormoni maschili, gli uomini a cui danno gli ormoni femminili al contrario, quindi faccio una faccia ad adolescente. Allora noi in Italia abbiamo già un The Transitioner che ha lasciato un'intervista da Porro, sempre a Quarta Repubblica e chi ho avuto la possibilità di conoscere. Ed è un ragazzo che ora ha 27 anni e a 22 anni è stato operato, è virato e ora è tornato indietro. E questo è per cui io sottolineo questa cosa che non bastano i 18 anni, questo ragazzo ha 18 anni, ha iniziato questo percorso dopo che aveva vissuto tutta un'atolescenza in cui si era convinto che era una donna e ora ha 27 anni ed è tornato indietro, nel senso che ha smesso di prendere gli ormoni, ma è stato virato, nessuno gli può restituire quello che gli è stato tolto. Questo per capire la gravità della carriera Alias e di cui stiamo parlando. Nel febbraio 2024 sono cominciate a uscire finalmente dei documenti che chiariscono intanto una cosa molto chiara, che non esistono prove empiriche che i bloccanti riducono la suicidabilità, anzi escono documenti che dimostrano il contrario, cioè che questi pensieri suicidi quando tu inizi questo percorso forse aumentano pure, pensa, non li diminuiscono ma aumentano pure. Scandalo della Davistock Clinic, non so se avete questa grande clinica inglese che è stata pioniera e per esempio, vi lo dico, a Roma c'è un centro al San Camillo che siccome raccontava proprio che le loro linee guida erano all'avanguardia perché era un linee guida della Davistock Clinic e tra l'altro lo dicevano mentre la Davistock Clinic già era stata chiusa ma queste sono sottigliezze, cioè la clinica dove venivano sfornati, fabbricati i baby trans, perché il tema ragazzi non è dell'adolescente, del bambino che viene a dirti che sta male, qualsiasi sia il motivo per cui sta male e che pensa di essere nato nel corpo sbagliato, qualsiasi sia il motivo o perché tutta questa ideologia che ci racconta e ci dice che è contro gli stereotipi di genere non fa che altro che stereotipizzare tutto, perché oggi un ragazzetto che poco poco non gli piace giocare a calcio ed è un po' più effemminato gli dicono ma vieni, tu vuol dire che sei nel corpo della donna, sei un maschio sbagliato, mentre banalmente io sono sempre stata un maschiaccio perché io prima di me ho un maschio, un mio fratello più grande, ho due anni di differenza e quella di sotto che ho una femmina ho quattro anni, con chi giocavo io, con mio fratello sono sempre stata un grande maschiaccio che se mi avessero acchiappato ora non lo so cosa mi avrebbero detto, ma lo dico seriamente perché io con la mia femminilità ho fatto pace più tardi, ho fatto pace dopo i vent'anni, è un dato, se voi vedete le foto mie da 15 anni, quando mi sono caduti i capelli, quelli che mi conoscevano non cambiava niente perché andavo con i capelli a boccia, capito, quindi nessuno si è stupito e mi hanno riconosciuto anzi più quegli amici miei vecchi che altro. c'è una bellissima, c'è la classe independent review perché dopo questo grande scandalo che c'è stato alla Tavisto Clinic, che poi se vuoi ti mando tutta la bibliografia naturalmente perché ora vado in conclusione, che è una revisione di letteratura di questa pediatra che ha fatto in Inghilterra, indipendente, che ha chiarito che queste transizioni, questa teoria affermativa, protocollo olandese di cui la carriera Aglias fa parte, anzi è il primo passo decisivo e importante, è fallimentare, fallisce, questi ragazzi poi non sono più felici, anzi, però sono dei ragazzi che se sono uomini che si ritrovano evirati, se sono ragazze si ritrovano senza il seno, magari con l'istectomia, cioè senza utero, con dei peli irzuti, con la barba che poi con il laser si devono levare la barba, bruttine perché gli ormoni li trasformano pure, non li trasformano anche un pochino i lineamenti e tutte le revisioni sistematiche di letteratura che vengono fatte internazionali, Svezia, Olanda, Canada, tutti gli stati in cui sono state fatte queste revisioni sistematiche di letteratura, che cos'è, banalmente prendi i dati, cosa è successo, che cosa hai fatto, qual è stata le linee guida cliniche che hai usato, quali sono stati i risultati, tutte dicono che gli ormoni non vanno dati prima dei 18, meglio prima dei 25, sempre per la famosa corteccia prefrontale che diventerà l'incubo di questo intervento. E in Italia, cosa succede in Italia? Come siamo messe in Italia? Malissimo, perché in Italia ci sono 8 centri di disforia di genere che usano le linee guida, le double view path, cioè proprio quelle linee guida che tutto il mondo che usa da 20 anni stanno dicendo che è stata una sperimentazione fallita sulla pelle dei più fragili ed è più piccoli, noi le stiamo usando ora e ancora, sono vive e vegede. Il grande scandalo del Careggi alla fine non è che si è concluso proprio interrompendo quello che facevano al Careggi, si sono inventati la figura del neuropsichiano infantile che mi pare che neanche sia ancora interno al Careggi e continuano ad andare avanti come pensano. La cosa che a noi ci chiama in questo contesto è che questi ragazzi, i The Transitioner che poi tornano indietro, fanno una domanda che ci deve interpellare, che dice ma dove erano gli adulti? Quando io soffrivo e pensavo di essere nata in un corpo sbagliato, dove erano gli adulti a dirmi, a indagare, a domandarmi perché mi sentivo in un corpo sbagliato? Dove erano gli adulti a vedere che la maggior parte di chi ha la disforia di genere ha un'alta comorbalità, cioè ha tantissime, ha delle patologie, dove erano gli adulti a capire che prima forse non affrontare quelle che erano le mie patologie, quelle che erano i miei disagi, quelli che erano i miei disturbi e poi dopo forse interrogarsi se veramente io avevo la disforia di genere? Dove erano gli adulti a farmi da quello che devono fare i genitori, che siamo chiamati noi a fare i genitori, cioè a fare la corteccia prefrontale, dire no? Dove erano gli adulti quando sono arrivata disperata solo col mio dolore e invece di entrare in questo dolore mi hanno dato una soluzione, tra l'altro mortifera per me? Dove erano gli adulti mentre venivano fatti esperimenti non randomizzati? Dove erano gli adulti mentre venivano sperimentato il nuovo sesso? Dove erano gli adulti quando veniva estorto il consenso a me e ai miei genitori? Dove erano gli adulti? Dove sono gli adulti ora quando nella scuola viene chiamata da un'associazione? Che poi magari può essere pure che… Io voglio leggere questa frase perché è citazione che leggo sempre nei convegni, perché dobbiamo pensare che qui non è una battaglia contro le persone, certamente, però una battaglia molto netta contro i principi. Allora c'è una frase di Maestre che a me piace tantissimo che dice «Le bugie somigliano alle monete false, cognate da qualche malvivente e sono poi spese da persone oneste che perpetuano il crimine senza saperlo». Così la bugia soprattutto se detta da persone autorevole o di successo, i social, ahimè, i cantanti, Netflix, corre in tutte le direzioni e lentamente si trasforma in verità, se non ci sottomettiamo alla fatica della verifica e della critica. Per questo io amo Todi, anche se è primo anno, mi sa che vengo, però insomma questo convegno meraviglioso che si sottomette alla fatica della verifica e della critica. dove sono gli adulti che ricordano dove è nato tutto questo casino, questo è un prendere delle filosofie, anche già nell'Ottocento c'erano delle femministe che dovevano emanciparsi eccetera eccetera e tradurle in qualcosa di clinico, in maniera vergognosa. Vi ricordo tutti perché noi abbiamo parlato 10 anni fa, 13 anni fa, ma vi ricordo John Money, che noi non ci ricordiamo già più, che era questo dottore che ha fatto questa sperimentazione su questi gemelli, la storia è che ci sono questi gemelli che devono ricevere un'operazione al pene per motivi medici, arrivano in clinica, il primo gemello si sta operando, c'è una tempesta, un fulmine e insomma il medico lui vira, gli brucia tutto il pene. Ragazzino di sette mesi, il secondo gemello naturalmente i genitori non gli hanno fatto fare niente e che cosa fanno? Vanno a finire da questo John Money, disperati, perché è una disperazione se tu hai sette mesi a tuo figlio, gli bruci tutto, gli carbonizzi il pene, è un tema molto serio, finiscono le mani di questo John Money che finalmente dice ho l'esperimento della mia vita tra le mani. Ora questo bambino ha chiesto alla famiglia di trasferirsi in un altro posto, crescetelo come donna, come una femmina e io dimostrerò a tutto il mondo che il genere è scollegato dall'identità, dal sesso biologico. Apro una parentesi, l'identità di genere che oggi tutti dicono che è una cosa precisa, il mondo scientifico non c'è una definizione precisa di identità di genere, quel Benderden là, il disegno con questo è il senso, questo è quello che amo, non è uno schema riconosciuto da tutto il mondo scientifico, anzi è semplicemente ben diffuso, ideologicamente diffuso, c'è una bella lobby che lo porta avanti. E quindi vi ricordo da allora questo ragazzo, questo ragazzino viene cresciuto come una femmina, lui non sa di essere maschio, sa di essere una femmina, c'è il gemello che gli fa da gruppo di controllo, c'è la sperimentazione per eccellenza, fatto sai che a 12 anni questa bambina naturalmente nasce, Brenda, cresce con grande disagio, con grandi difficoltà, così tante difficoltà che alla fine i genitori gli dicono guarda, ti dico la verità, tu eri un maschio e noi ti abbiamo cresciuto come una femmina perché bla bla bla, lui ritorna a essere maschio e tra l'altro una tragedia suicida, si suicida lui e si suicida poi il gemello che ha vissuto questa angoscia perché questo Gianmani faceva delle sperimentazioni quasi pedopornografiche, delle cose orrende, io ho letto il libro veramente da vomito, ma che cosa succede? Che Gianmani dice al mondo scientifico che questa sperimentazione è riuscita e quindi racconta che veramente sì, tra il genere e il sesso, il sesso e il genere non sono per forza coincidenti e noi questo, e questo si è diffuso nell'università e quello che ci arriva oggi a noi è anche frutto di questi studi, questo sperimento clamorosamente fallito ma che continua a essere diffuso come invece uno sperimento che possa dare, può dare un senso. Quante bugie, quante monete false spese e quanto è difficile ma decisivo sottometterci alla fatica della verità e della critica, quanto è difficile andare nei consessi, in ascensore, con la famiglia a tavola, negli istituti, nei consigli di istituto a dire no, a fare da preconcezione, no. La careralia se non va bene no perché, non solo perché è legale, non solo perché non è nell'autonomia del preside, ma perché distrugge le nostre figlie e i nostri figli, perché non gli porta alla felicità, perché li porta al suicidio, perché li porta a mutilare un corpo sano, è questo quello che ci deve spingere. C'è una bellissima frase, chiudo? Quindi è un crimine, la careralia se fa parte di un crimine, né di più né di meno, fa parte di un crimine che continua a dire ai nostri figli che sono nati nel corpo sbagliato e che devono rinunciare a se stessi per poter essere amati. La careralia se la disforia di genere dice che ha un bambino che per essere amato deve mutilarsi e non deve essere se stesso e deve fare, deve imitare qualcun altro perché non potrà mai essere qualcun altro, o qua si parla di uomini che rimangono incinta. Sono donne che assomigliano, hanno fatto tutto per assomigliare agli uomini che rimangono incinta. Quindi la careralia se sta anche educativamente parlando sta dicendo a tuo figlio e a tua figlia che non vanno bene così come sono e che per essere amate devono stravolgersi. Pazzesco. E quindi noi siamo chiamati a essere custodi, limiti, confini, come diceva prima di me, di tutti i figli, non solo dei nostri, anche degli altri. Non è facile, siamo Davide contro Colia però, proprio perché siamo Davide, contro Colia possiamo andare in battaglia avendo tutte le nostre paure e fragilità, ma andandoci, sapendo che ci andiamo perché stiamo difendendo qualcosa di preziosissimo, che sono questi figli, che è il nostro futuro. c'è una mamma che è una mamma di generazione D che dice questa cosa. Non diremmo a un bambino vestito da Superman che ci saluta dalla cima di una scala che è davvero un supereroe e che quindi può volare. E non diremmo a una ragazza di nemmeno 50 kg che si vede grassa che può mettersi a dieta. Dunque non diremmo a una ragazza che si sceglie un nome da maschio che è un maschio. Ah no, questo purtroppo lo facciamo. Le nostre figlie a un certo punto sono state indotte a pensare che le loro difficoltà, le loro tristezze, le loro stranezze o semplicemente il loro disagio per la pubertà fossero segnali del loro essere trans. Da quando si sono tagliate i capelli e si fanno chiamare dagli amici con un nome maschile, credono di essere diventate maschi. Questo è il loro problema. I vostri figli, loro amici e compagni, sono stati indottrinati nel riconoscerle come maschi, utilizzando i pronomi maschili come richiesto, nonostante sappiano distinguere i maschi dalle femmine fin dal primo anno di asilo. Questo è il problema dei vostri figli, vostro e nostro. Perché lo stesso vale per gli insegnanti, gli psicologi, i medici e in generale gran parte della nostra società. Siamo stati tutti ammaestrati. Ma cosa succede se la realtà, invece di farti da specchio, si adatta alla tua fantasia, alle tue illusioni? Ci cadi dentro, senza rete di sicurezza. Per questo siamo qui e per questo dobbiamo essere assolutamente contrari alla Carrera Arias. Grazie a tutti. Grazie a tutti.